Grazie a tutti ragazzi, la nostra mascotte, il nostro partigiano cante, facciamo un applauso e salutiamo naturalmente il sindaco che è sempre qui con noi in questo spazio che il comune ci dà ogni volta che abbiamo bisogno quasi quasi per uso caprionico, mi pare che sia stato tolto, ce lo prendiamo noi perché siamo sempre qui e meno male che c'è questa struttura, altrimenti quest'anno sarebbe stato veramente difficile fare delle attività. Io ringrazio i bimbi, i ragazzi che si sono appassionati ed hanno preparato dei bei lavori che adesso vedremo. Ringrazio la passione del coordinatore, il professore Plastino e di tutti gli insegnanti che con lui hanno collaborato per realizzare questo momento che viviamo insieme. Naturalmente voi sapete cosa rappresenta per noi italiani il 25 aprile, è un evento strepitoso e nello stesso tempo tragico, strepitoso perché gli italiani sono riusciti a riconquistare la democrazia, a riconquistare i propri diritti e quindi è un evento bellissimo che il 25 aprile deve essere festa sempre finché questa Repubblica resisterà, difendete questa festa perché voi siete il nostro futuro e la dovete difendere e ci dobbiamo riflettere sempre sull'importanza di questa festa. Ma è anche un evento tragico perché giustamente se abbiamo dovuto combattere per riavere riconosciuti i diritti della democrazia significa che non esistevano più, che erano stati calpestati. E questo è lo spirito di questa manifestazione è farvi riflettere e ricordare, leggerete delle lettere che sono veramente commoventi ma che vi faranno riflettere su ciò che veramente rappresenta la democrazia. La nostra scuola ci tiene tanto a questo momento perché attraverso questo momento vi facciamo stare allerta perché la democrazia non è una cosa che una volta che l'abbiamo ottenuta rimarrà per sempre. No, la democrazia va difesa ogni giorno. Ricordatevi che ci sono forme di pseudodemocrazia, cioè di false democrazie che noi pensiamo che è tutto bene, tutto è a posto e invece poi lentamente ci privano della nostra libertà. Questo è l'obiettivo di questa scuola, farvi riflettere sempre e farvi stare allerta perché è un dono la democrazia, un dono che abbiamo avuto attraverso il sacrificio di persone come il nostro carissimo nonno Partigiano Kent. Tanta gente come lui si è spesa perché noi oggi possiamo ricordare questa festa con grande entusiasmo e con grande orgoglio. Dobbiamo essere orgogliosi del 25 aprile. Il 25 aprile rappresenta l'orgoglio e la dignità rinata del popolo italiano. Ricordatevelo tutti. È di nuovo un affettuoso grazie. Ah, volevo dirvi una cosina. La scuola dell'infanzia oggi non è presente, però ha lavorato più o meno in questo senso. Sono piccoline, ci viene difficile a volte spostarle, poi la sala non è tanto capiente. Però anche loro hanno dato il piccolo contributo attraverso un progetto che hanno realizzato le sezioni dove lavora la signora, la maestra Penza Bene e la maestra Bruna a Carlopoli. Penza Bene a Soveria insieme alla sua collega e Bruna a Carlopoli ed hanno realizzato un momento molto bello a cui a Soveria il sindaco ha partecipato a scuola di Costituzione dove dei bimbi così piccolini sono riusciti attraverso dei disegni, attraverso dei dialoghi a ricordarci che cos'è la Costituzione. Non è proprio il 25 aprile ma è conseguenziale al 25 aprile. Quindi anche loro hanno dato, lo voglio ricordare qui, le maestre hanno dato il loro contributo ed è stato anche un momento bello che troverete pubblicato sul sito. Niente, vi ringrazio di nuovo per il lavoro che avete fatto e viva la nostra libertà. Grazie a tutti.